Il presidente dell'Associazione Animalisti Italiani, Walter Caporale, al fianco della veterinaria Giussi Branella, nella battaglia per il mantenimento della spiaggia per cani nel comune di Giulianova. Una questione che va avanti oramai da diversi anni. Nel 2021 il comune di Giulianova decise di non prorogare la concessione in questione e che portò ad un immediato ricorso al tarre, che con sentenza breve rigettò le richieste del comune prorogando la concessione di unica bici di altri tre anni. A maggio 2023 però l'amministrazione comunale di Giulianova è tornata all'attacco decidendo che dal 2024 non ci sarà più un'ubicazione per portare i cani in spiaggia. Una decisione che ha immediatamente suscitato grandi polemiche. Questa notizia ha fatto un po' il giro del web sui social e quindi Walter Caporale, che ha saputo dell'ennesimo problema che si pone a Giulianova, ha voluto partecipare sia col comunicato stampa sia sottoscrivendo l'osservazione che verrà presentata la prossima settimana, entro il 9 luglio, come la scadenza. Ci sono già tanti cittadini che vogliono anche partecipare, cittadini e turisti. Cittadini e turisti. I turisti sono agguerritissimi, anche se purtroppo non avendo la residenza giuliese alle firme non hanno partecipato perché non li ho fatti partecipare io, se no tutti sui social si possono vedere i commenti molto critici nei confronti di questa amministrazione, giustamente anche perché è un'iniziativa che va avanti da sei anni, quindi è assolutamente assurdo ipotizzare anche soltanto di toglierla. Quello che chiediamo è che venga riconfermata perché nel piano spiaggia hanno previsto che ogni anno venga cambiata l'ubicazione e questo significa non farla, è soltanto una meschina scusa per poter non ripetere questa iniziativa, quindi noi chiediamo la riconferma in questo sito.